ciao oggi vediamo un telescopio particolare soprattutto per l'alta risoluzione ovvero luna e pianeti quindi che esula un pochino dai miei soliti telescopi che uso anche perché sono appassionato soprattutto di deep sky ovvero nebulose galassie a massi stellari però vediamo un attimino di che si tratta dopo la sigla chi mi segue o quantomeno chi segue questo canale sa che parliamo di fotografia parliamo di fotografia un po su tutti i generi in particolare anche di astrofotografia e per quanto riguarda l'astrofotografia io sono solito fotografare nebulose a massi stellari galassie comunque deep sky per quanto riguarda l'alta risoluzione ovvero luna pianeti in realtà non è proprio la mia passione quindi sì lo faccio mi piace ci gioco un pochino ma troverete un pochino meno contenuti su questo aspetto oggi vediamo un telescopio dedicato proprio all'alta risoluzione perché la fotografia chiaramente è bella però in astronomia è molto interessante anche il visuale ci sono certe situazioni in cui magari osservare è bello e piacevole quanto fotografare in particolare per l'alta risoluzione mi piace ogni tanto dedicarmi proprio all'osservazione visuale anche se poi ci scappa sempre di attaccarci qualche fotocamera per fare qualche foto per fotografare gli oggetti in alta risoluzione che sono a parte la luna soggetti angolarmente molto piccoli servono lunghe focali sono soggetti anche molto luminosi quindi a differenza delle nebulose delle galassie che sono molto deboli il rapporto focale del telescopio o comunque dell'obiettivo che si utilizza non è così fondamentale come invece per la fotografia deep sky ho sempre avuto quindi nel mio corredo un piccolo telescopio dedicato a questo genere di fotografia un telescopio che è anche relativamente facile da trasportare per anni mi sono divertito con il maxuto of kassegrine da 127 mm ne ho parlato in questo video e devo dire che era un bellissimo di coera perché nel frattempo non è più nel mio corredo lo sto utilizzando un altro astrofilo adesso ma dicevo era un bello strumento perché era piccolo compatto ma comunque con un diametro di quasi 13 centimetri e quindi in grado di mostrare già dei dettagli interessanti sui pianeti cosa si può vedere quando si punta un telescopio di questo tipo sui pianeti sulla luna beh sui pianeti su saturno chiaramente oltre agli anelli del pianeta si vede la divisione di cassini si vedono alcuni tratti alcuni dettagli sulla superficie su giove la macchia rossa o l'ombra proiettata dai satelliti sulla superficie del pianeta sono assolutamente alla portata di un 12 centimetri quindi è uno strumento che permette già di divertirsi parecchio tuttavia in alta risoluzione il diametro la fa da padrona quindi un 12 centimetri e mezzo un 13 centimetri comunque mediamente sulla carta mostra meno dettagli rispetto a un 15 a un 20 centimetri e così via il problema qual è quindi l'ideale sarebbe avere il telescopio più grande possibile però poi ci sono due grandi inconvenienti uno il singe ovvero la turbolenza della nostra atmosfera che se non è più che calma i grandi diametri non riusciremo a sfruttarli ma soprattutto grandi diametri vuol dire anche telescopi grossi pesanti complessi da portare in giro costosi non da ultimo ma soprattutto poiché richiedono tanto tempo per acclimatarsi ovvero per andare in temperatura per poter così mostrare le massime potenzialità ottiche dello strumento stesso per me che faccio osservazioni o qualche fotografia in alta risoluzione ogni tanto avere uno strumento pratico era per me fondamentale per questo avevo scelto proprio questo max to top da 127 mm di diametro con una focale di un metro e mezzo è stata un'ottima scelta dal mio punto di vista mi sono divertito la rifarei sicuramente ma poi è iniziato a diventare un pochino stretto quei soli 12 13 centimetri di diametro e così mi sono guardato in giro senza arrivare sui 20 centimetri che iniziano a diventare un pochino più complessi sempre da gestire ho trovato questa soluzione della omegon che è un kassegrain puro quindi non è uno schmidt kassegrain non è un max to top kassegrain non è un rc è uno schema ottico relativamente semplice e ottimizzato proprio per l'alta risoluzione offrendo però una compattezza davvero interessante e questo rispetto al mio max to top kassegrain che era da 12 centimetri e mezzo questo è da 15 centimetri e qui quindi può dare sulla carta una risoluzione maggiore quindi più dettagli sui pianeti viene venduto solo col tubo ottico senza nemmeno il l'attacco per un cercatore c'è un un focheggiatore cryford con la di moltiplica poi la vediamo più nel dettaglio e anche degli anelli di prolunga da mettere tra il focheggiatore il tubo del telescopio per andare a fuoco con i vari accessori omegon lo propone in due versioni questo da 15 centimetri e poi quello più grande da 20 centimetri la cosa interessante che il rapporto focale un f12 per entrambi quindi questo 15 centimetri f12 vuol dire avere una focale inattiva di quasi due metri 1800 e passa millimetri questo è molto importante perché senza ulteriori accessori noi possiamo già ingrandire notevolmente i nostri soggetti è chiaro che sui pianeti poi serviranno o delle barlo ovvero dei moltiplicatori di focale per ingrandire ulteriormente ma già partiamo con una focale davvero molto importante in una dimensione compatta partiamo subito da cosa mi è piaciuto di quest'ottica beh dopo le prime prove e dopo la collimazione che ne parlerò successivamente ho visto perché all'inizio ho potuto confrontarli anche appaiati che questo kassegren rispetto al max utov da 127 millimetri da qualcosina in più anzi l'immagine sembra anche un filo più contrastata addirittura rispetto al max utov kassegren che già di su era abbastanza contrastata quindi dal punto di vista ottico mi è piaciuto subito altro aspetto molto interessante che a differenza del max utov kassegren che per la messa a fuoco sposta lo specchio primario e quindi si ha sempre un focus shift del soggetto che man mano che invertiamo la rotazione della messa a fuoco lo vediamo correre all'interno dell'oculare o peggio all'interno dell'area inquadrata dal sensore con questo telescopio praticamente il soggetto non si sposta o quantomeno lo spostamento davvero minimo quindi un'altra facilitazione per quando si fa astrofotografia e si puntano oggetti ad altissimi ingrandimenti è piuttosto leggero pesa comunque intorno ai 5 kg quindi può essere gestito perfettamente da montature come questa questa addirittura è una Vixen GPDX quindi regge ben oltre questa portata infatti su questo è davvero una roccia ma anche un EQ5 un EQM35 potrebbe gestirlo tranquillamente addirittura si potrebbe pensare anche di utilizzarlo sul nostro inseguitore dove la portata spesso arriva a 5 kg quindi siamo proprio un po' al limite però se il treppiede che sostiene tutto è stabile e roccioso penso che si possa ottenere qualcosa di decente anche con quella configurazione anche se ovviamente non è quella che consiglio altro aspetto interessante è la realizzazione meccanica il tubo è relativamente piccolo però appare robusto ha ben 8 diaframmi interni che oltre ad aumentare il contrasto riduce anche i rischi di flessione le razze porta secondarie sono molto robuste non sono il lamierino sottile che si vede spesso su alcuni newton quindi questo dà la garanzia di mantenere bene la collimazione ormai dopo penso ormai quasi un anno che lo sto utilizzando posso dire che la collimazione di questo Castagram una volta fatta è vero che non l'ho portato in giro tantissimo l'ho usato spesso da casa ma non l'ho dovuto più ritoccare l'ostruzione del secondario tra l'altro è di 58 mm il diametro quindi potete fare voi conti di quant'è l'ostruzione di questo sistema ottico la caratteristica del Castagram puro è che offre appunto una compattezza un'ottima risoluzione in asse ma poi man mano che ci si allontana le varie aberrazioni ottiche diventano sensibili per questo anche se potrebbe essere una bellissima ottica per fotografie anche deep sky per gli ammassi globulari oppure per le nebulose planetarie proprio per il fatto che fuori dall'asse ottico ha un po' di aberrazioni mi risulta difficile utilizzarlo e sono sicuro che non arriverà a soddisfarmi per come sono abituato io è un peccato perché se ci fosse uno spianatore per questo sistema sarebbe un'ottica davvero molto compatta e molto pratica per fotografare oggetti di estensione angolare molto piccoli pertanto lo utilizzerò esclusivamente appunto per pianeti e luna altra particolarità rispetto al maxutof che avevo prima è che il tubo è vuoto non ha il menisco tra l'altro abbastanza spesso del maxutof e quindi i tempi di acclimatamento soprattutto in inverno quando fa molto freddo sono abbastanza ridotti va in temperatura prima e quindi diventa subito quantomeno diventa utilizzabile in minor tempo anche questo non è un aspetto da sottovalutare perché quando si ha poco tempo e per sfruttare bene le caratteristiche del telescopio bisogna aspettare che arrivi in temperatura e questo ci mette 45 minuti, un'ora, un'ora e passa è chiaro che non è molto pratico quando magari un altro telescopio a parità di condizioni ci arriva in 20 minuti, in 30 minuti ecco che il vantaggio io trovo che sia davvero notevole la livra è nera su questo non avrei qualcosa da ridire perché di sera, al buio, avere tutto il telescopio nero si fa fatica a vederlo quindi trovare i vari comandi è un pochino più scomodo fosse stato bianco comunque di un colore un pochino più chiaro sarebbe stato secondo me ancora più pratico da utilizzare sul fondo del tubo vediamo le viti di collimazione del primario quindi come telescopio abbiamo la possibilità di collimare il primario e il secondario ma non il focheggiatore a meno che non ci si adatti con qualche accessorio aftermarket però devo dire che nel mio sistema il focheggiatore è già risultato collimato quindi una volta che ho collimato i due specchi ho ottenuto risultati davvero notevoli l'ho visto anche sullo Star Test con immagini molto contrastate con delle centriche quasi da manuale il focheggiatore è un classico focheggiatore che si trovano un po' su tutti gli strumenti cinesi ha una corsa non particolarmente estesa loro dichiarano 4 cm ma io sono andato a misurare sono poco più di 3,5 cm ed è per questo motivo che lo danno assieme agli anelli di prolunga questi sono gli anelli di prolunga che vengono dati col telescopio in totale formano una prolunga di 10 cm e sono composti da un anello da 5 cm e due anelli da 2,5 cm applicando l'anello di prolunga tra il focheggiatore e il telescopio noi possiamo utilizzare qualsiasi tipo di accessorio quindi possiamo guardare in visuale in diretta senza diagonale possiamo toglierne qualcuno se mettiamo il diagonale se mettiamo camere CMOS oppure delle reflex o mirrorless possiamo sempre trovare il back focus corretto ecco una cosa importante come dicevo prima questo telescopio non ha lo specchio che si sposta anzi al focheggiatore quindi sposta proprio il piano per trovare il fuoco perché la distanza tra il secondario e primario per questo tipo di schema ottico è molto importante quindi piccole variazioni portano a cambiare in maniera sensibile la qualità dell'immagine formata quindi è stato pensato proprio per non alterare le distanze tra i due specchi cosa che invece avviene nei Maxutoff-Kassegren o negli Smith-Kassegren dove in questi telescopi è sempre il primario che si sposta parlando sempre di focheggiatore è risultato abbastanza robusto ha alcune viti di regolazione stringendolo tiene abbastanza bene ma ho notato che puntandolo allo Zenith con una camera molto pesante è abbastanza facile vederlo slittare questo è un classico dei focheggiatori Crayford che io non apprezzo particolarmente preferisco dei buoni pignoni a cremagliera o quelli misti ancora meglio e questo forse è il più grande limite di questo telescopio peraltro costruito decisamente bene considerando anche il prezzo di vendita che è abbastanza abbordabile altre caratteristiche di questa configurazione che ho apprezzato sul campo è che il fatto di non avere il menisco come nel precedente Maxutoff proprio davanti al telescopio oltre all'acclimatamento molto più veloce porta a essere meno sensibile ai riflessi osservando e fotografando dalla città è facile avere lampioni e col Maxutoff mi dovevo dotare sempre di un paraluce perché altrimenti avevo sempre riflessi che cadevano all'interno del sistema ottico e mi abbassavano il contrasto e la qualità generale con questo invece posso utilizzarlo tranquillamente così senza paura o comunque senza il rischio che della luce spuria accada sul piano focale altro vantaggio soprattutto per chi riprende o comunque osserva dalla pianura in inverno con la nebbia con alta umidità è il fatto che non si appanna la lente frontale perché non c'è la lente frontale quindi avere un tubo vuoto anche da questo punto di vista è un vantaggio in un anno non ho mai avuto l'occasione di provarlo su una reflex o su una mirrorless proprio perché l'ho preso quasi esclusivamente per osservazioni visuali e per qualche ripresa ma con le camere dedicate per l'alta risoluzione tuttavia magari in futuro proverò anche a puntare qualche oggetto celeste con una reflex per vedere un po' come si comporta però guardando le specifiche so già che appena ci si allontana dal centro del fotogramma le stelle inizieranno a spappolarsi un po' per le varie aberrazioni ottiche e quindi sì lo farò come test però non mi aspetto granché da questa soluzione ed è un peccato come dicevo prima è un peccato che non ci sia uno spianatore o un riduttore ma più che un riduttore a me piacerebbe proprio uno spianatore per poter sfruttare questi quasi due metri di focale in un sistema così compatto infatti nelle specifiche date da Omegon questo telescopio è in grado di coprire come cono di luce un sensore fino alla PSC quindi sarebbe anche potenzialmente interessante per la fotografia deep sky di certi tipi di soggetti peccato quindi perché dotarsi di un telescopio di questo tipo beh se si vuole fare alta risoluzione se si vuole uno strumento abbastanza compatto anche abbastanza veloce da utilizzare che ha tempi di acclimatamento abbastanza veloci che sia leggero quindi utilizzabile anche su montature piccole già questa è quasi sovradimensionata per il peso di questo telescopio però una montatura non è mai sovradimensionata è solo molto più stabile quindi meglio avere sempre una montatura un po' troppo grande rispetto al telescopio che viceversa e quindi sia che facciamo osservazioni visuali sia fotografie di questi oggetti io trovo che questo sia un ottimo compromesso rispetto al Maxutov l'ha soppiantato nel mio corredo lo vedo in tempo zero proprio perché dopo che l'ho provato qualche volta ne ho visto tutti i vantaggi quindi diametro maggiore prezzo quasi uguale assenza del menisco meno incline ad avere riflessi quindi tantissimi vantaggi e comunque ribadisco una buona meccanica magari non eccellente come telescopi che però costano 4-5 volte di più però valida e soprattutto robusta nel tempo l'altro aspetto che ho visto è che non ce ne sono tanti in giro di questi telescopi quindi se siete dei possessori di questo Omegon Pro Cassegrain puro o l'avete provato vi va di condividere la vostra esperienza trovate la possibilità di commentare così ci possiamo confrontare sulle qualità di questo sistema ottico in attesa magari di provarlo anche nel Deep Sky vi ricordo che vi potete iscrivere al canale mettere la campanellina e soprattutto commentare ci vediamo alla prossima ciao